Complimenti invece al Catania di Maran che ha gli stessi punti della Fiorentina di Montella si è parlato tanto di un Catania senza Montella però Maran ha 8 punti in classifica, mi diceva Giorgio 3 punti in più rispetto al Catania di Montella l'anno scorso a questa giornata e sempre grandi talenti come per esempio Barrientos che oggi ha deciso la partita con l'Atalanta Complimenti, questo avveniva in Catania-Atalanta Bene, è tempo di lasciarvi a terzo